Salve a tutti amici youtubers e bentrati dal vostro cattoreggio rosso 94. Volevo parlarvi in questo video dell'acquisto ormai ufficiale dell'Atalanta di Marco Tuminello che arriva direttamente dalla Roma per circa 5 milioni di euro. Un affare che però prevede anche una possibilità di recompra da parte del club giallorosso fissata a 10 milioni alla fine della prossima stagione e 13 milioni alla fine di quella successiva. Un diritto di recompra che quindi aumenta con l'avanzare delle stagioni. Premetto prima di tutto che per me questo è un affare che fa felici tutti quanti. Fa felice la Roma perché dà un suo giocatore del reparto offensivo in un'altra squadra anche perché considerando il momento attuale della Roma non avrebbe mai potuto trovare spazio visti gli innumerevoli giocatori che abbiamo sul reparto offensivo. Fa felice il giocatore perché rimane nel campionato italiano, rimane nella Serie A e va in una squadra che valorizza al massimo i giovani soprattutto italiani grazie alla guida di un grande tecnico come Gasperini almeno per quanto riguarda la valorizzazione dei giovani e fa felice l'Atalanta perché ha così un giocatore in più per il suo reparto offensivo che ha soprattutto una grande voglia di rivalza. Per me Tuminello è un grandissimo prospetto che però l'anno scorso come tutti ben sappiamo ha avuto la sfortuna di rompersi il crociato e rimanere fuori per quasi tutta la stagione. È incredibile come i tesserati della Roma si debbano sempre rompere questo meredetto crociato anche quando non giocano con la Roma. Era il periodo che si rompevano tutti, Karlsdorp si era rotto, qualche settimana dopo si era rotto Tuminello che per quanto giocava col Crotone era ancora un nostro tesserato qualcosa di veramente assurdo. Comunque come stavo dicendo è un affare che fa felici tutti e francamente mi piace molto la modalità con la quale lo abbiamo ceduto. Quando ho saputo che era stato ceduto definitivamente per 5 milioni avevo un po' storto il naso sia per il prezzo secondo me non troppo elevato per il potenziale del giocatore e sia perché credevo che appunto il giocatore non sarebbe più potuto tornare alla Roma. Invece sapere che potremmo spendere solo 10 milioni per riacquistarlo alla fine della prossima stagione secondo me è una cosa molto molto importante perché se farà veramente bene con l'Atalanta e metti caso ci sarà una cessione davanti potremmo riprenderlo senza spendere una cifra troppo esagerata. Un po' come abbiamo fatto qualche anno fa con Lorenzo Pellegrini. Questo affare mi fa capire ulteriormente quanto sia inverosimile o comunque quanto non sia vero il prezzo che la Roma ha speso per Cristante. Mi spiego meglio. È vero che la Roma ci ha speso 30 milioni però già da questo affare ne stiamo vedendo che anche se è scollegato da Cristante diciamo che comunque è stato fatto in seguito a questo acquisto. Scusate non so se mi sono spiegato bene cioè la Roma ha speso 30 milioni per Cristante e tutto quanto però con queste cessioni parte di questi soldi se li sta riguadagnando quindi è come se la Roma avesse ceduto facciamo un esempio avesse preso Cristante dall'Atalanta spendendoci 25 milioni perché 5 milioni di questi sono stati presi con la cessione di Tuminello. Ricapitolando questo discorso per me è un giovane attaccante molto molto promettente che è riuscito comunque in 10 partite a segnare 3 gol nonostante la sua situazione di precaria condizione fisica la scorsa stagione con il Crotone e secondo me grazie al potenziale tecnico di Gasperini e grazie al bel gioco dei giovani che mostra l'Atalanta in campionato potrà fare sicuramente ottime cose e se riuscirà a fare veramente bene potremmo riportarlo alla base la prossima stagione. Penso che sia ancora presto per riportarlo però comunque che ne sa c'è alla fine prossimo anno non sappiamo ancora quello che succederà e per me giocare nell'Atalanta potrebbe sicuramente fargli bene quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo sperando ovviamente che i problemi fisici lo lasciano definitivamente da parte. Un saluto dal vostro Gatorreggio64 fatemi sapere nei commenti voi che se ne pensate sempre e comunque Forza Roma! Ciao ragazzi!